Le donne sono intuitive e multitasking, gli uomini sono logici e razionali. Così sintetizza il CNR raccomandando che non è il caso di contrapporre i due generi, dato che sono complementari. La Conf Commercio di Cremona coglie la palla al balzo e organizza un incontro pubblico per domani, 8 marzo alle ore 21, nella propria sede di Palazzo Vidoni, in via Manzoni, per spiegare che l'azienda può unire ciò che il Tribunale spesso divide. Per quanto in famiglia possano litigare, uomini e donne hanno caratteristiche ideali per collaborare nel modo più proficuo all'interno delle aziende. Così domani, accanto a Nadia Bragalini, presidentessa del gruppo Terziario Donna, lo psicologo Francesco Ziliani illustrerà le qualità specifiche del cervello femminile. E' insomma nell'interesse delle aziende valorizzare lo spirito manageriale delle donne e soprattutto le caratteristiche inimitabili dell'intelligenza femminile, per comprendere a 360 gradi le realtà più complesse. Perciò domani sera saranno illustrate, nello spirito della sinergia, non della contrapposizione tra uomini e donne, le buone prassi utili nella vita quotidiana di ogni impresa. Dalla Camera di Commercio però arrivano notizie ben diverse, perché in provincia di Cremona l'economia non ha tenuto conto delle indicazioni del CNR ed è diventata meno rosa. Le imprese femminili infatti hanno perso addetti anche nel 2016. Ne sono rimasti 13.038, ben 800 meno del 2013 e un centinaio meno che nel 2015 e anche il numero delle imprese è calato negli ultimi quattro anni. Le imprese rosa erano 5.732 nel 2013, ne sono rimaste alla fine dell'anno scorso 400 in meno, cioè 5.337. Dunque è in corso una tendenza statistica marcatamente negativa, che è contraddetta però in alcune categorie come l'agricoltura, l'alloggio e la ristorazione, i servizi di informazione e di comunicazione. Cremona ancora una volta si differenzia dalla media regionale, che vede le donne imprenditrici in chiaro aumento. La Lombardia supera, anzi l'Italia, mentre a Cremona il numero delle imprese femminili rimane stabile nell'ultimo anno e non cresce come nelle province di Milano, Brescia, Monza e Brianza, Bergamo, secondo i dati della Camera di Commercio di Milano.